Una presentazione è necessaria anche se sommaria perché in realtà 20 anni sono tanti, e di storie da raccontare ce ne sono, ma noi la facciamo sommaria e poi vi facciamo vedere chi è qui con noi. È stato per 20 anni giornalista al TG5, attualmente è condirettore del blog quotidiano online Alga News, ha lavorato dalla fondazione dal 1992 fino al settembre 2012 al TG5, dove ha ricoperto tra l'altro per lungo tempo l'incarico di caporedattore centrale responsabile della cosiddetta Night Line, che comprendeva il TG5 della notte, la rubrica della rassegna stampa, il notiziario flash TG5 prima pagina, quello che va in onda nelle prime ore della mattina della durata di 15 minuti e per il TG5 in precedenza era stato inviato speciale di Cronaca e di Esteri, realizzando i primissimi collegamenti in diretta dell'appena nato TG, tra i quali un deragliamento ferroviario alle porte di Roma, questo sempre nel 1992, e poi l'eruzione dell'Etna nell'aprile-maggio del 1992. Tra le interviste condotte tra i personaggi di Spicco, ma solo alcuni intervistati da lui, c'è Margaret Thatcher, Bill Clinton, Muammar Gheddafi, Benjamin Netanyahu e Yasser Arafat. La lista è lunghissima, noi abbiamo qui Paolo Di Mizio. Benvenuto. Grazie per avermi invitato. Allora, la presentazione è lunghissima, però in realtà tra le prime notizie che si leggono è il fatto di aver inventato la rassegna stampa, quella che ormai in tutte le televisioni esiste, è stata inventata proprio nel neonato TG5. Allora, il ricordo oggi qual è? Ed ecco le quali immagini, perché ovviamente è un volto storico. Come nasce l'idea? Quando non avevo la barba. L'idea è nata così, quando stavamo preparando il TG5, che è uscito il 13 di gennaio, nella sua prima edizione, 13 gennaio 1992, nei giorni precedenti, nelle riunioni che avevano preceduto la prima messa in onda, io avevo notato che il TG3, diretto da Mario Cursi, aveva un programma interessante la notte che era fatto su un titolo o due di giornali e poi facevano delle interviste agli ospiti e io da lì ebbi l'idea di fare invece, senza interviste agli ospiti, una rassegna di tutti i titoli visto che i giornali a quell'ora, alle 11, mezzanotte, sono già pronti, le prime pagine sono pronte, ne parlai con Enrico Mentana che era il direttore del telegiornale, decidemmo, provammo, facciamo alcune prove e decidemmo di lanciare questa rassegna stampa che all'inizio era molto breve, erano di 5-6 minuti, nel telegiornale di mezzanotte. Io faccio vedere una cosa perché poi le fotografie sono una delle cose più belle in questi casi e sul profilo personale c'è una fotografia, noi la facciamo vedere, eccola qua, la prima foto ufficiale della redazione romana del Tg5 e la specifica è che io non c'ero in quel periodo, proprio nel suo profilo perché in quei giorni coprivo i fatti della guerra tra Bosnia e Croazia, era da poco finita la battaglia di Vukovar ed era stato firmato un accordo per il cessato del fuoco ma la guerra sarebbe poi proseguita ancora per tre anni e qua c'è una foto dell'avvio perché poi questo è un mese prima della messa in onda. Sì esatto, era nel mese di gennaio del 1992, prima del 13 gennaio, qualche giorno prima del 13 gennaio. Io ero stato inviato a Belgrado, poi da Belgrado mi ero spostato nelle craine, cioè nelle zone, nelle province in guerra all'epoca e in particolare a Vukovar dove tra l'altro io e la troupe serba che era con me, fummo bersagliati da alcuni tiri di fucile perché la città era stata conquistata, era una città assolutamente spettrale, totalmente distrutta, i pochi muri ancora in piedi erano crivellati da migliaia e migliaia di colpi, non avevo mai visto nulla del genere. A un certo punto i soldati ci fermarono, i soldati serbi, non volevano che noi andassimo avanti e dissero se lo fate lo fate a vostro rischio e pericolo. Noi andammo avanti e a un certo punto sentimmo sibilare dei proiettili che ci sparavano alcuni cecchini che erano rimasti e ancora la città non era completamente ripulita. Ci buttammo per terra in mezzo alle macerie dietro a un muretto, dopo un po' arrivarono i soldati serbi e la sparatoria cessò, evidentemente i cecchini fuggirono. La città di Vukovar era così martoriata, che per molto tempo il governo serbo ha pensato di mantenerla così com'era per farne un monumento gigantesco alla guerra, un monumento contro la guerra, perché era veramente una città spettrale, poche volte mi è capitato di vedere cose del genere, forse oggi si vedono solo in Siria, in alcuni posti bombardati. Facciamo un percorso, un percorso che nasce da quando Paolo Di Mizzio va all'estero dopo la sua laurea in lingua e letteratura straniere e inizia a insegnare, da lì inizia una carriera di corrispondente per un'agenzia di stampa. Esatto, l'agenzia NEA, diretta da Riccardo Forte. Dopodiché inizia proprio la professione giornalista, dopodiché ritorno in Italia, poi rimane in Italia, ma in realtà continua ad essere, come in questo caso, inviato, perciò i ruoli ricoperti sono tantissimi, fino ad arrivare poi in redazione a condurre la rassegna stampa e quindi fare due vite diverse. Qual è la differenza del ruolo del giornalista tra inviato e poi quando invece si siede e ha davanti le notizie? Sono due lavori molto diversi. Io per tanto tempo ho fatto l'inviato speciale, ho girato per il mondo, ero abituato a dormire quasi ogni notte in un albergo diverso o in un letto diverso, quando si trovava il letto, perché in certi luoghi disagiati non era neanche facile trovare il letto o trovare un letto con riscaldamento, eccetera. Per esempio, penso all'Albania, quando non c'era più riscaldamento, c'erano una notte 10 gradi sotto zero, io dormivo in una camera senza riscaldamento, con i vetri rotti e avevo addosso due, tre, quattro coperte e un giaccone imbottito, ma soffrivo il freddo in maniera tremenda, perché c'erano 10 gradi sotto zero. Altre volte invece la vita era molto più semplice, si dormiva in grandi alberghi. Ma la vita, quando poi sono passato al desk, cioè a fare il caporedattore, quindi a controllare il lavoro degli altri, a dirigere il lavoro degli altri, devo dire la verità, per alcuni anni ho sofferto, nel senso che mi è mancata molto l'adrenalina, il fatto di viaggiare, di andare a conoscere, a vedere con i miei occhi quello che succedeva, perché delle volte ci si rende conto di cose con gli occhi che sembra di poter conoscere anche attraverso la televisione, ma non è così. Per esempio, quando ti trovi davanti a Margaret Thatcher o Bill Clinton, capisci del personaggio, delle cose che prima non avevi capito, ma le capisci per empatia, le capisci dal modo in cui ti parla, dal modo in cui si porge, dal modo in cui ti stringe la mano, dalle cose che fa. Non so, Bill Clinton che ogni 10 minuti interrompeva l'intervista perché voleva una Coca-Cola light, perché poteva bere solo la light per non ingrassare, lui era un grande igienista, correva tutte le mattine, avvicinare Margaret Thatcher per esempio, la lady di ferro, ti rendi conto che Margaret Thatcher è una donna completamente algida, completamente fredda, che pone tra sé e l'interlocutore una distanza enorme. È una donna che si è comportata nella stessa maniera nei confronti della regina d'Inghilterra, cioè voglio dire... e quindi afferri della psicologia di certi personaggi delle cose che sicuramente non avresti potuto afferrare se non le avessi viste con gli occhi. Questo mi è mancato molto nella mia attività di caporedattore, di coordinatore della redazione. Il ricordo più bello oppure quello che rimane più impresso di tutti questi anni di lavoro qual è stato? Oh, questa è una domanda difficile, il più bello, non ce l'ho mai pensato perché il più bello delle volte coincide anche con il più brutto. C'è una cosa che io descrivo nel mio libro, che è un ricordo bello e brutto nello stesso tempo ed è lo scoppio della prima guerra del Golfo, quando io mi trovavo nel Kurdistan turco al confine con l'Iraq. La notte in cui iniziarono i bombardamenti su Baghdad nella prima guerra del Golfo fu una notte molto drammatica perché non si sapeva se quello che Saddam Hussein aveva detto era un blef oppure no. Saddam Hussein aveva detto che avrebbe bombardato con i suoi missili a lunga gittata, gli Scud di fabbricazione sovietica, tutti i paesi confinanti, quindi anche la Turchia, il Kurdistan in cui io mi trovavo. Tra l'altro noi avevamo lì vicino una base militare della Nato, la base di Incirlik da cui partivano gli aerei americani per bombardare l'Iraq. Quando cominciarono i bombardamenti era l'1.17 locale, mezzanotte 17 in Italia, del 17 gennaio 1991. I soldati dell'esercito turco venne a raccogliere noi giornalisti in albergo per portarci in un luogo sicuro tra virgolette, cioè nella caserma che non era affatto sicura perché secondo me sarebbe stato un obiettivo. Quella è una notte che io ricorderò sempre nella mia vita perché uscimo fuori da quest'albergo c'era un metro di neve, stava nevicando, c'era un silenzio assoluto, fiocchi di neve grandi così che cadevano lentamente, sembrava quasi di sentirli cadere sulla neve già posata per terra e quella notte vivendo, pensando che ci potessero bombardare con le armi chimiche perché Saddam Hussein aveva detto che aveva delle testate chimiche che invece non aveva, non le usò perlomeno, passiamo quella notte chiedendoci se saremmo morti lì o se... e poi la mattina successiva si capì che questo non era successo ci riportarono nell'albergo, ci si capì che le difese o le capacità di attacco di Saddam Hussein erano state neutralizzate abbondantemente dagli americani. Viene da fare una domanda che fa insomma un po' un parallelo. Lei ha partecipato alla nascita della prima televisione che cercava di fare da contraltare alla televisione di Stato, quindi Rai 1 con il Tg1 e il Tg5. La nascita di un'importante televisione, di un telegiornale che tutt'oggi è tra i più importanti. Enrico Mentana nel suo ultimo libro racconta il primo giorno, il primo Tg, la messa in onda e racconta che quel giorno chiama il primo servizio non parte, chiama il secondo non parte, chiama il terzo non parte, insomma praticamente si erano emozionati in regia, erano tutti emozionati e nulla, andò come doveva andare. Dice chissà che risate Bruno Vespa che si trova sul Rai 1. Che ricordo ha? Guardi, io ho questo ricordo, io mi trovavo a Belgrado quel giorno e naturalmente andai in un service televisivo dove avevano la parabola per poter vedere il Tg5 in diretta. Lo vedi da Belgrado e le prove che avevamo fatto nei giorni precedenti erano sempre andate benissimo, eravamo prontissimi, però quel giorno andò tutto malissimo. Mentana in forte imbarazzo, per fortuna lui è bravissimo in onda e quindi riuscì a disbrigarsi, però era veramente imbarazzante perché il primo servizio non partì, il secondo non partì, il terzo non partì, la cosa diventava molto imbarazzante. Lui se la cavò benissimo, io dopo il telegiornale lo chiamai e lui stava ancora urlando in maniera furibonda ma era molto scosso, era molto scosso da questa esperienza. Temevamo il disastro, la mattina successiva arrivarono i dati dell'Auditel, avevamo superato abbondantemente il Tg1, forse anche gli errori avevano calamitato l'attenzione della gente, oltre al fatto che c'era un'aspettativa enorme perché era il primo vero grande telegiornale privato in grado di competere con i telegiornali della Rai. Tra l'altro era stato scelto esattamente l'orario dell'ammiraglia della Rai e lì dice ci fu uno scontro tra Berlusconi e Mentana che non voleva lo stesso orario perché era impegnativo. Esatto, Mentana voleva un orario diverso perché diceva andiamo contro la corazzata, ci macellano, invece aveva secondo me ragione Berlusconi che è un genio della televisione, si può pensare di lui quello che si vuole, però non gli si può negare il fatto di essere estremamente intelligente ed essere un genio della comunicazione, disse no, noi con una televisione dell'importanza di Canale 5 non possiamo schivare il Tg1, dobbiamo andargli di fronte e poi ce la vedremo, vinceranno loro o vinceremo noi. C'è scritto tra tutta la biografia che la riguarda che il Tg5 fu, e soprattutto lei fu uno dei primi a fare delle dirette per il telegiornale, in quel caso si parlava del deragliamento, allora un ragionamento è questo, chi lo ha sperimentato per la prima volta, oggi guardando quello che succede quando si parla di cronaca e qui possiamo parlare, stanno in Abruzzo di Rigopiano, che ha calamitato l'attenzione mondiale, vede differenza nel modo di trattare le notizie dei cronisti? Nel modo di trattare le notizie tra quell'epoca e oggi? No, non vedo una grandissima differenza, nel senso che la differenza la fanno gli uomini, cioè sono gli stimoli e l'intelligenza di ciascuno che fanno di un collegamento, soprattutto se da una situazione di difficoltà, di tragedia, di dramma, fanno di un collegamento un successo e di un altro collegamento un insuccesso, cioè sono le persone, in realtà gli strumenti sono gli stessi, la parola dell'uomo e la capacità dell'uomo di capire quello che sta succedendo e di raccontarlo. La critica che viene mossa negli ultimi anni è quella di spettacolarizzare la notizia negativa e di renderla un po' troppo cruda per il pubblico per ottenere ascolti, lo vede succedere? Sì, assolutamente sì, la notizia viene spettacolarizzata, la notizia viene spettacolarizzata da sempre. Quando Daniel Defoe, lo scrittore inglese, inventò i primi quotidiani o i primi giornali diciamo di tipo moderno, inventò anche la rubrica delle lettere, lui si scriveva le lettere al direttore, se le scriveva lui e scriveva le risposte e in queste lettere affrontava gli argomenti di cui tutta Londra parlava, perché questo foglio era distribuito a Londra e cominciò già lì la spettacolizzazione, lo sfruttamento della notizia in veste spettacolare. Del resto se lei parla con il direttore di un giornale dirà ma io devo vendere il giornale, quindi è chiaro che poi esistono dei limiti, nel senso che ognuno deve darsi una misura, non si può esagerare nello spettacolarizzare le notizie, sono state per esempio molto criticate le ricostruzioni a tavolino che vengono fatte nel programma di Vespa, no? I plastici. La porta con il plastico dell'omicidio, l'assassino forse era qui, ha camminato qui, è andato qui. Però l'hanno seguito, erano i quattro. Ecco però la gente poi lo segue e ci sono dei ritorni diciamo e quindi è come vendere i giornali. È cambiata la gente? No, io credo che la gente abbia interesse ai grandi omicidi, ai grandi amori, ai grandi drammi, alla vita dei personaggi famosi, io penso che questo fosse vero nell'antica Roma, era vero nell'ottocento, è vero nel novecento ed è vero ancora oggi, l'uomo è sempre quello. Allora parliamo adesso della seconda opera, del secondo libro, si chiama Teneri Lupi. In questo caso il racconto da fare è questo, nato a Bologna, dai tre anni si trasferisce a vivere a San Benedetto del Tronto, che diventa, lei scrive una posizione che si chiama Nato in un posto di mare, se non sbaglio, si chiama Nato in un posto di mare, vengo da un posto di mare e successivamente ci vive fino a quando inizia a lavorare all'estero e poi ci torna a vivere e poi si sposta in Abruzzo a vivere nel momento in cui finiscono tutti questi spostamenti. Il ricordo di questo libro inizia da qui, perché noi lo dobbiamo chiamare diario, perché in realtà è un viaggio attraverso tutti i ricordi, da quando preparava la maturità a quando ha parlato insomma di quelli che sono un po' in chiave simbolica i ricordi della guerra, del male dell'uomo, che torna in tante poesie. Allora, devo dire che è un libro molto singolare, nel senso che non è nato da un progetto letterario, voglio fare un libro così, è nato spontaneamente raccogliendo dei fogli sparsi che io avevo riempito di annotazioni fin da quando ero ragazzino, perché ho 13-14 anni, cominciai a scrivere delle poesie e ho sempre sentito il bisogno nella mia vita di fermare certi momenti, certe impressioni, certe riflessioni, qualche volta in versi, qualche volta in prosa, quindi è un libro che è scritto una parte in versi, una parte in prosa e ci sono riflessioni sulle cose più disparate, ci sono argomenti di politica estera, ci sono argomenti di etica, ci sono argomenti molto più intimi, di amori, di sentimenti e ci sono anche delle riflessioni per esempio sulla traduzione, io mi sono dedicato molto alle traduzioni quando ero all'università, studiavo lingue e letterature straniere e mi appassionava, come mi appassiona ancora oggi peraltro, tradurre da una lingua straniera l'italiano e qualche volta anche dall'italiano a una lingua straniera. Questi fogli però che io avevo sparsi in giro per il mondo, una parte erano nella casa dei miei genitori in Abruzzo, una parte li avevo nelle valigie o negli armadi nella mia casa a Roma, li ho ricomposti, messi insieme, li ho ritrovati e mi è venuta l'idea di riunirli in un unico libro e questo libro l'ho chiamato Teneri Lupi dal titolo di una poesia che è intitolata appunto Teneri Lupi, è un po' l'immagine dei ricordi, cioè i ricordi, tutto quello che nella vita è stato un lupo, cioè è stato un mostro pauroso che ti ha spaventato, che tu hai dovuto combattere, arrivato a una certa età e riflettendo nel ricordo anche quello si addolcisce, si addolciscono anche gli scontri, anche le battaglie, sia quelle vinte sia quelle perse della vita e per questo i lupi sono definiti Teneri, che è uno simoro Teneri Lupi, no? Ed è un po' la contrapposizione, io volevo far vedere anche il momento in cui fa la presentazione di questo libro perché poi torna San Benedetto del Tronto come terra che ama tantissimo Paolo Di Mizzi e soprattutto lui ama e qua si parla anche di quattro amici che si ritrovano insieme per presentarlo, quattro amici di vecchia data, questo era uno dei pezzi che si trovava nelle recensioni dopo la presentazione, dove vi siete presentati a San Benedetto insieme a un professore, un suo professore, un suo ex professore, riportava il giornale che in questo incontro dove c'era anche il libro c'erano quattro amici, cioè Paolo Di Mizzi o più uno che era stato suo professore. Sì, allora, ho presentato il libro in occasione del premio Truentum, mi hanno attribuito il premio Truentum che è il premio che la città di San Benedetto del Tronto conferisce ai suoi figli naturali o adottivi, nel mio caso adottivo perché non ero nato a San Benedetto, però come abbiamo detto ho vissuto per 20-22 anni a San Benedetto del Tronto, quindi dall'età di tre anni e naturalmente avendo vissuto la mia vita da ragazzo e dalla prima giovinezza a San Benedetto del Tronto io ho degli amici a San Benedetto del Tronto, molti amici, molti compagni di scuola e presentando il libro in occasione contemporanea con il premio Truentum ho trovato nella sala ingremita di gente, con tantissima gente, ho rivisto quattro compagni di scuola che poi hanno voluto fotografarsi con me. Insieme a loro c'era il nostro professore di latino e greco, il famoso Tito Pasqualetti, che a San Benedetto è una leggenda per la sua severità da insegnante e come non bastasse poco dopo ci ha raggiunti anche la moglie di Tito Pasqualetti che era professoressa di filosofia sempre al liceo classico di San Benedetto del Tronto e quindi forse è a questa fotografia che lei si riferisce. Sì, perché infatti l'online riportava proprio questa occasione di amici che si ritrovano e insomma c'era anche qualcosa che riportava all'infanzia. L'introduzione di questo libro è curata da Giulia Latini Mastrangere e la cosa interessante è che un po' la descrive ovviamente e la cosa che attira l'attenzione è che in questo diario, lo definiamo, nella difesa di punti fermi, nella coerenza di fronte ad anelioti insoppremibili e nella constatazione amara della sconvolgente persistenza del male nell'uomo. Lui mostra il filo conduttore del suo percorso di maturazione e a un certo punto la definisce un guerriero involontario, un chisciotte sfinito. Sì, guerriero volontario è un'espressione che uso io in uno scritto e che la professoressa Latini Mastrangere lo cita nell'introduzione al libro. È vero, la professoressa ha colto esattamente l'estrema sintesi del libro. Se io dovessi dire che cosa ho imparato in una vita, visto che è un libro che si è scritto da solo in varie fasi della mia vita, da quando avevo 13-14 anni fino ad oggi che sono, diciamo, nella terza età, se dovessi dire se c'è qualcosa che ho imparato con sicurezza e con certezza è che l'uomo è malvagio e c'è una malvagità di fondo nell'uomo che noi vediamo esplodere tutti i giorni, la vediamo nella cronaca, la vediamo nei fatti di politica estera, la vediamo nelle tragedie, nelle guerre, nei massacri che si succedono e ai quali non ci sarà mai soluzione. ognuno di noi secondo me deve lottare per cercare di modificare il mondo e fare in modo che esso sia un po' migliore e questa lotta non è inutile perché ognuno di noi ha la capacità, noi come opinione pubblica, come gente, come massa abbiamo la capacità di influire limitatamente, ma in qualche modo possiamo influire sui governi e sui loro comportamenti, possiamo impedire alcune cose ma non possiamo impedire che la natura umana sia quella che è. La domanda che mi è venuta quando ho fatto un po' la ricostruzione di tutti i libri, un altro si chiama Storia di Giuseppe e del suo amico Gesù e la cosa che vorrei far vedere perché in realtà uno da un uomo che ha costituito una parte importante della televisione e dell'informazione italiana si aspetta un libro che la racconti e invece qua si vede proprio un uomo che vuole raccontare altro. Il titolo già lascia intendere un po' che è l'uomo delle contraddizioni e anche delle cose che vengono svelate piano piano, Storia di Giuseppe e del suo amico Gesù. La cosa affascinante è vedere quelle che sono anche le recensioni di chi legge questo libro, che trova e qui non so poi chi scrive un libro se quando legge questa sorta di commento come rimane, se se lo aspetta da un lettore perché ci sono delle analisi dettagliate dello stile, di quelle che sono le emozioni che riesce a suscitare un libro. Ah, se le aspettava era questa l'intenzione? Quando si finisce a scrivere un libro che si pensa? Allora questo è riferito al mio romanzo Storia di Giuseppe e del suo amico Gesù, che è la storia di un bambino ebreo che vive nel villaggio di Nazareth, che conosce Gesù, diventa amico di Gesù, ma nella sua vita a partire dall'adolescenza diventerà ateo o comunque agnostico, che è un po' la mia storia privata se vogliamo, perché anche io all'età di 11 anni decisi che ero agnostico o ateo e da allora non ho più cambiato idea. È un romanzo storico a sfondo teologico, perché comunque la religione mi ha sempre interessato molto, l'ho molto studiata. Sì, quello che dice quella lettrice mi sembra molto ben indovinata, anzi se posso leggere, la lettura di questo romanzo mi ha incantata, è come se dentro al libro ci fosse tutto quello che si può sapere della vita e del mondo. Sì, perché il personaggio si presuppone che sia anziano, questo personaggio di Giuseppe, questo ebreo, e scrive la storia della sua vita, che è anche la storia della sua vita insieme a Gesù, quando è molto anziano e quindi racconta tutto il mondo. I personaggi femminili, questo libro secondo me sono particolarmente riusciti, Esther, Germanica, Tamara e Eunice, è un libro, un affresco dell'antichità, molto pieno di personaggi. E poi dice, il mondo antico nel libro è ricostruito in maniera deliziosa, sembra di vedere la scena e scorrere in un gioco virtuale. In effetti, io per scrivere questo libro ho studiato per quattro anni, per quattro anni mi sono addentrato sulle antichità ebraiche, nelle antichità ebraiche e nella storia ebraica e nei costumi, perché con un puntiglio quasi morboso, volevo essere esattamente preciso. Ad esempio, faccio solo un esempio, quando descrivo come un certo personaggio che si chiama Saulo, che fa il tintore di stoffe, come tinge le stoffe, io ho fatto una lunga ricerca per sapere come venivano tinte le stoffe nel 2000 anni fa, all'età di Gesù Cristo, e ho scoperto con quali fiori, con quali polveri, con quali procedimenti. E questo viene descritto meticolosamente nel libro, viene descritto nel libro come veniva fatto il vetro e come venivano fatti certi vasi ornamentali decorati dal vetro. Viene descritto, per esempio, puntigliosamente, anche questa è una lunga ricerca che ho fatto, cosa si vede entrando nel porto di Eraclion, nella città di Eraclion, cosa poteva vedere a bordo di una nave, 2000 anni fa, la città di Eraclion. Le colline che sono a destra, le colline che sono a sinistra, a destra sono boscose, a sinistra sono invece prive di vegetazione, il porto, insomma tutti i dettagli storici. L'argomento è inventato, naturalmente, è fiction, è romanzo, ma tutte le descrizioni storiche sono assolutamente vere nel dettaglio. E ho dedicato moltissimi anni di studio, quattro anni di studio, per i particolari storici del libro. Questi sono due libri completamente diversi, uno è un diario e questa è una storia che è basata su un lunghissimo studio e anche su una contrapposizione, e soprattutto una storia che fa porre delle domande, perché poi alla fine lo più più dovrebbe essere quello. Ma aver inventato qualcosa di importante come una rassegna stampa, aver fatto la storia del giornalismo televisivo, non le ha fatto mai venire voglia di raccontare quello che c'era dietro? Perché uno si aspetta che chi fa un lavoro così importante, che lascia una scia così forte? Allora, io devo dire una cosa innanzitutto, io non ho mai apprezzato molto i libri di quei colleghi giornalisti che vanno 15 giorni nel Kosovo e poi scrivono un libro sul Kosovo, vanno 15 giorni in Medio Oriente e poi scrivono un libro nel Medio Oriente e sono improvvisamente diventati dei grandi esperti di Medio Oriente. Li detesto, nel senso che li trovo delle formule commerciali, è chiaro che serve per vendere il libro, perché l'argomento in quel momento è un argomento di attualità, ma non mi ha mai attratto. Per me il libro deve avere uno spessore diverso, uno spessore, se si parla di politica estera, deve essere scritto da chi ha studiato per molti anni la politica estera, non da chi è stato 15 giorni o un mese in un paese straniero. Invece per me scrivere un libro comunque è un'operazione letteraria, scrivere un libro implica uno studio sulla scrittura, implica una costruzione, se è un romanzo, la tua fantasia deve essere organizzata, tutto nasce naturalmente dall'immaginazione, dalla fantasia dello scrittore, ma deve essere organizzata e costruita in un certo modo e in un certo tipo e sospendere per esempio la narrazione di un capitolo nel momento in cui il lettore invece vorrebbe sapere come va a finire e riprenderla dopo due capitoli perché così si tiene in tensione l'attenzione del lettore. Insomma, scrivere un libro per me è una cosa diversa dal giornalismo, il giornalismo è una narrazione veloce, rapida, fatta di giorno in giorno delle cose che accadono, che naturalmente è importante, naturalmente è vitale, però non è la stessa cosa del libro. Ha conosciuto tanti personaggi contestati, un po' insomma, con delle polemiche intorno, ha conosciuto mai Oriana Fallaci? No, personalmente non l'ho conosciuta, conoscevo sua sorella. Che idea ha da giù? Non ho mai apprezzato molto Oriana Fallaci e ho sempre dubitato assai di molte delle cose che lei scriveva, non dei giudizi ma dei fatti, perché mi accade questo, che conobbi in America, in uno dei miei viaggi in America, alcuni giornalisti che erano stati nel Vietnam, durante la guerra del Vietnam. Ora io non so se quello che mi hanno raccontato sia vero, però erano tre giornalisti ed erano tutte e tre concordi nel raccontare questo episodio. Accadde che i giornalisti si trovavano in un campo militare che fu improvvisamente e inaspettatamente attaccato dai Viet Cong, cioè dai guerriglieri del nord. Le forze americane, l'esercito americano, cominciò subito l'evacuazione di questo campo, naturalmente evacuando per primi i feriti. La Oriana Fallaci, che tra l'altro era un carattere volitivo e prepotente, voleva essere evacuata per prima, perché temeva di morire. Mentre gli altri giornalisti aspettavano il loro turno, lei fece un casino, bloccò un'ambulanza e disse io devo salire. Non volevano farla salire, minacciò di chiamare al telefono il generale che aveva intervistato pochi giorni prima, che era il comandante delle forze americane in quel settore del Vietnam e alla fine gli ufficiali si trovarono di fronte a questa persona, questo energumino, che comunque stava bloccando le operazioni di evacuazione del campo e la fecero salire su un'ambulanza, quando naturalmente non avrebbe avuto bisogno di un'ambulanza. Il giorno dopo, due giorni dopo, uscì una descrizione, un articolo di Oriana Fallaci, in cui Oriana Fallaci raccontava minuziosamente la battaglia alla quale non aveva assistito, perché gli altri giornalisti erano rimasti ancora 24 ore, lei invece si era fatta evacuare per paura di rimanere secca sotto le bombe. Questo me lo raccontarono tre giornalisti americani, Gheddafi, che io ho intervistato, notoriamente, lo ha detto più volte, lo ha ripetuto anche a me, off the record, cioè chiacchierando, dicendo che quella giornalista italiana è venuta qua e ha fatto delle domande, poi quando è comparsa l'intervista in Italia, le domande erano tutte diverse e ha messo solo le mie risposte cambiando il senso delle domande e voleva sapere da me, io gli dissi, guarda, io non la conosco, non la conosco personalmente, quindi si lamentava di questo fatto. Nell'intervista che Oriana Fallaci aveva scritto risultava che lei avesse battuto il pugno sul tavolo, gli avesse contestato questo, gli avesse contestato quell'altro, mentre a detta di Gheddafi tutto questo non era avvenuto, era molto sequiente, si era messa il velo in testa come se fosse una musulmana e l'intervista, diciamo, non rifletteva lo spirito e il clima nel quale in realtà si era svolta. Questo mi raccontò Gheddafi, ma non l'ha raccontato solo, me l'ha detto anche in molte altre occasioni. E invece di tutte le interviste di personaggi che ha conosciuto, c'è qualcosa, qualche cosa che le ha veramente cambiato il modo di guardare, di riflettere, un personaggio che l'ha veramente toccata? Guardi, un personaggio che abbia cambiato la mia vita non c'è, però ci sono dei personaggi che mi hanno colpito in maniera particolare. Ora, io sono cresciuto negli anni, a fine anni 60, all'inizio degli anni 70, ero un adolescente, sono vissuto in piena era dei Beatles e quindi per me i Beatles, come per tutti quelli della mia generazione, erano assolutamente un mito. quando andai a Londra nel 1987 ad intervistare Paul McCartney, io ricordo quella intervista come una delle cose più stupefacenti, non solo l'intervista, anzi, l'intervista l'ho quasi dimenticata, ma ricordo l'apparizione di Paul McCartney, ci avevano messo in una stanza me e la troupe, in un albergo dove lui ci avrebbe incontrati, ed eravamo ormai da un'ora, due ore, in attesa che arrivasse, lui aveva fatto tardi, perché prima aveva parlato con i giornalisti della carta stampata e si era dilungato. A un certo punto si aprì questa porticina di questo albergo antico, stile vittoriano, e contro luce comparve la sagoma di Paul McCartney. Ora, lei può non credervi, i telespettatori possono non credermi, ma io sono convinto di aver visto un alone verde intorno a Paul McCartney. Io non so se l'alone c'era, o era un effetto ottico, perché lui era in controluce, dietro era molto più illuminato che non la nostra stanza, o semplicemente era la mia suggestione. Fatto sta che intervistai Paul McCartney, l'intervista andò molto bene, anzi, io feci un'intervista in inglese, a quell'epoca parlavo l'inglese così bene che lui credeva che io fossi un giornalista inglese, e poi mi disse, ma come mai un giornalista inglese lavora per una televisione italiana, gli dovevi spiegare che sono italiano, e mi salutò con molto, e mi scrisse una dedica, io mi ero portato un disco che avevo comprato quando avevo 14 anni, Revolver, il long play, e lui mi fece una dedica su questo disco, con la sua firma, eccetera. Tornai in Italia, arrivai a Canale 5, e incontrai Frizzi, Francesco, Fabrizio, sì, Frizzi, lo incontrai perché lui all'epoca era fidanzato con Rita della Chiesa che lavorava a Canale 5, e lui stava uscendo dal cancello, io stavo entrando, ma di corsa, perché dovevo montare il servizio subito, avevo poco tempo, e mi dice Paolo, Paolo, ma sei stato, è vero che sei stato a Londra a intervistare Paul McCartney? Sì, sì, Fabrizio, non sono stato a Londra, dice, com'è, com'è Paul McCartney? Io non avevo tempo, non avevo voglia di spiegargli, gli dissi, senti Fabrizio, ha un alone verde intorno, lui mi guardò così, lo sapevo, tutti i geni hanno un alone verde intorno, e se ne andò via, pensiero, ma non lo disse scherzando, lo disse per il serio, e se ne andò via pensiero, ancora me lo ricordo con la testa china, come per dire, io non l'ho conosciuto, volevo vedere anch'io il genio con l'alone verde, e questa è la mia storia di Paul McCartney, poi naturalmente ho intervistato tanti altri personaggi, con delle sfaccettature diverse, da Gheddafi a Mubarak, a Clinton, però di Paul McCartney mi colpì questa impressione che toccò una corda profonda. E invece oggi, se deve guardare, dopo il suo percorso lavorativo, quali sono le caratteristiche che deve avere un buon giornalista? Che non devo mancare. Guardi, sono diverse le caratteristiche che deve avere un buon giornalista, innanzitutto, un buon giornalista deve essere un onesto e capace narratore, perché, come diceva Enzo Biaggi, la cronaca è la cosa più importante, nel senso che si fa cronaca, anche quando si fa politica o quando si fa politica estera o economia, bisogna raccontare, la cronaca è il racconto, e bisogna saper raccontare, quindi essere bravi, ma naturalmente bisogna essere corretti, onesti, poi si può sbagliare, si può raccontare, però bisogna, nel massimo della propria onestà, della propria coscienza, raccontare quello che si è visto e quello che si è sentito, senza piegarsi a convenienze del momento, dell'occasione, comunicazione, perché quando si piega uno, poi si piegano anche gli altri, perché non vogliono essere da meno, e tutto questo porta ad un ruolo non più principale, non più primario dell'informazione, l'informazione è il cane da guardia della politica e deve continuare ad essere il cane da guardia della politica, sapendo che i politici faranno di tutto per controllare l'informazione e il loro mestiere, e i giornalisti devono fare di tutto per non essere controllati. Allora io lo ringrazio tantissimo perché ovviamente per noi è la storia della televisione italiana, quindi sentirla raccontare è bellissimo. La cosa che odiava di più del telegiornale della vita della redazione? La cosa che odiavo di più? Beh io l'ho amato tanto quel telegiornale che non so se ci sono cose che... Quella cosa che succedeva sempre che però uno non avrebbe fatto volentieri a me. Si lavora proprio al secondo. Ma guardi, nei momenti in cui si fa il telegiornale delle volte non c'era il tempo di preparare, di fare tutto perché l'orario naturalmente è tiranno, e quindi si odia in quel momento l'orologio, si odia il tempo, si odia qualcuno che non ha fatto in tempo a fare quello che avrebbe dovuto fare. Però anche quelli sono teneri lupi, nel senso che il giorno dopo già si dimenticano. Non ho odiato niente, ho amato tutto del mio lavoro. Benissimo, noi lo ringraziamo tantissimo Paolo Di Mizio per essere stato qua e per averci raccontato. Grazie a voi per avermi ospitato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.